Ed eccomi all'ultimissimo punto, in questa comunicazione, quello relativo alle recenti nomine nelle partecipate, in modo che anche queste decisioni restino agli atti, nonostante siano già tutti a conoscenza di quanto dirò io qui. Quindi abbiamo nominato gli unici componenti del consiglio di sorveglianza di ASA, di cui al Comune di Vivorno per i patti sociali rispettano tre. Il consiglio di sorveglianza sarà così presieduto dal dottor Nicola Ceravolo, cui va il mio applauso per aver deciso di costituire un fondo per l'amorosità incolpevole che verrà finanziato grazie al taglio degli stipendi e benefit dei componenti del consiglio stesso. Gli altri due membri scelti dal Comune di Vivorno sono Franco Lovascio e Nicola Giusti. Vorrei infine informare, anche se è stata ritirata per ovvie ragioni in incompatibilità, la designazione di Andrea Morini a componente del consiglio di amministrazione della piattaforma Biscottino Spa e non appena avremo il nuovo nome da designare lo ufficializzeremo davanti a questo consiglio. E con questo è davvero molto. Grazie.